Claudio Baglioni è uno dei cantautori più influenti della musica italiana, capace di toccare il cuore del pubblico con le sue canzoni senza tempo. Prima di iniziare, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati. Un piccolo gesto per voi, ma fondamentale per noi. La sua carriera, iniziata da adolescente con una passione innata per la musica, ha attraversato decenni facendo innamorare generazioni di giovani. Claudio, nelle sue rare interviste, ricorda spesso il soprannome, Agonia, datogli per la nota di tristezza delle sue prime composizioni, riflesso di una profonda sensibilità artistica. Questo piccolo grande amore, è un brano iconico, suonato in spiaggia tra amici e dedicato agli innamorati, nominato la canzone più bella del ventesimo secolo. Baglioni ha mantenuto la sua professionalità e empatia nel corso degli anni, ma recentemente ha sorpreso i suoi fan con un annuncio inaspettato. A 73 anni, ha deciso di concludere la sua carriera musicale. In un'intervista a Sky, ha dichiarato che nel 2026 dirà addio al palco per concentrarsi sul presente e godersi appieno i giorni che restano. Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video e news.